19.35 minuti in diretta su Radio Italia Anni 60, vi stiamo raccontando l'avvio di questa sesta edizione di Little Sicily 2017 appunto da Capodorlando, manifestazione che quest'anno è legata inevitabilmente a doppio filo con i presidi Slow Food della Sicilia, marcatamente, segnatamente lo Slow Food che opera, agisce nella zona dei Nebrodi. Per parlarne di più, per parlarne meglio e in maniera più diffusa abbiamo con noi Vittorio Alfieri, buonasera, che è una sorta di addetto stampa dello Slow Food e al tesseramento per cui bisogna anche spiegare un pochino a chi ci sta ascoltando come si fa ad entrare un po' nel mondo di Slow Food perché potrebbe sembrare da fuori che si tratta di un'associazione di persone che comunque abbiano uno scopo ben preciso ma che siano estremamente specializzati, invece mi pare che così non è. No, Slow Food è aperta a tutti, anzi è rivolta proprio e concepita per il cittadino comune che però vuole coccolarsi, vuole curarsi nel cibo, con il cibo buono di un certo livello. Fino a qualche mese fa non c'era la possibilità di avere il crisma dell'ufficialità come diceva il dottore Salerno sulla certificazione, sul sano, giusto e pulito e buono soprattutto, ora anche nel nostro territorio è possibile aderire. Aderire, ecco il tesseramento è anche un segno per dire faccio parte di questa comunità sia che siano dei ristoratori, degli addetti ai lavori o dei semplici cittadini, anzi noi ci rivolgiamo all'uomo comune, anche ai più piccoli, ad esempio per gli under trend il tesseramento che dura 12 mesi costa semplicemente 10 euro. Noi siamo fuori dal gioco in questo caso, perché almeno per quanto mi riguarda io e Amerigo credo che siamo fuori dal gioco, però non so per quanto mi riguarda. E anche in queste tre giorni, Orlandina, è possibile aderire perché ci sono presenti le schede da compilare oppure sul sito Slow Food che è molto fornito, oppure terza opzione presso la sede di Torrenova dal nostro fiduciario, il ragioniere Angelo Pedano che è comunque noto nel territorio ma è facilmente ragionabile. Posso anche dire, posso anche dire, imprenditore di Arreturcom che conosco e che saluto. Assolutamente, un marchio e una garanzia, si direbbe. Insomma, sia lui che la moglie, insomma, sono sempre molto attivi sul territorio. Mi avete invitato a nozze in questo vostro interessantissimo dialogo. Era un dialogo, insomma, diciamo, tra impari, però insomma ho cercato di capire. Ma l'archeologo che c'è in me reclama spazio, no, semplicemente per dire che mi trovo d'accordissimo con tutto quello che è stato detto e per rispondere anche a distanza di qualche minuto alla domanda iniziale sullo food e mangiare lento. Sulla ragione etimologica. Sì, diciamo che noi ora non ci stiamo inventando niente, è un ritorno al passato. Stiamo riscoprendo quello che giustamente, come già facevi notare tu, i nostri avi facevano, anche in questa zona. Perché la nostra zona, senza andare lontano, anche l'etimologia nebrodi, da nebros, cerbiatto, cerbiatto, l'animale sacro a Dioniso, Dioniso si onorava facendo i banchetti, i simposi, oggi gli schiticchi. Negli schiticchi, lo possiamo dire, non è una parolaccia in radio, si mangia lento, cioè si aspetta che la carne si cuocia alla braccia e dello stare insieme, cosa che non si trova nei fast food. Nei fast food nemmeno ci si conosce, si mangia veloce, dubito di quello che si mangia. Quindi noi siamo ritornati al passato nel cibo che è una cosa ottima. Va bene, allora signori, è stato davvero un piacere oltremodo. Vi troveranno sicuramente per i prossimi giorni nell'isola petonale di Capodorlando, nelle vicinanze del municipio, nella seconda postazione, quindi andate con fiducia a conoscere i nostri amici di Slow Food, assaggiate i prodotti nostri, davvero tipici, davvero importanti, davvero di qualità e sostenete la buona gastronomia siciliana. Grazie ancora per essere stati con noi, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco.